Nonostante il parere della Commissione di Garanzia regionale, il congresso si svolgerà domenica 16 febbraio. Ne sono convinti i sostenitori PD di Francesco Comi, che non temono le ultime decisioni e danno l'appuntamento agli elettori. Noi sosteniamo Comi perché rappresenta l'innovazione, è un renziano della prima ora, quindi lo appoggiamo. Purtroppo si stanno creando delle difficoltà che noi che apparteniamo al PD non accettiamo perché le regole vanno rispettate. Siamo fiduciosi che il congresso si farà e che i segretari devono attivare tutto quello che serve per aprire i seggi. E' la più importante forma e dimostrazione di democrazia, di accettazione delle regole e di saper vivere in un partito che vuole rinnovarsi. L'abbiamo visto con l'ultimo congresso il segretario nazionale. Da Roma ci hanno confermato che il congresso si fa in tutta Italia, in tutte le regioni il 16 febbraio. Ci sono due candidati, noi sosteniamo chiaramente Francesco Comi, per cui non ci sono motivi per non fare il congresso. Chi sostiene Ciriscioli dice che l'incompatibilità che viene addepitata a lui è simile a quella di Renzi a Firenze e di Emiliano a Bari. Questa è una risposta facilissima. Intanto Renzi è segretario nazionale e non ci sono limiti in questo senso, non ci sono incompatibilità previsti dallo statuto. Secondo, per Emiliano non ci sono ricorsi. Eventualmente chi sostiene questo faccia ricorso alla Commissione nazionale contro Emiliano, contro la candidatura di Emiliano. L'articolo 21 dello statuto di fatto dice che i sindaci di capoluoghi di provincia non si possono candidare a segretario regionale. Più chiaro di così si muore. E siccome il partito di Matteo Renzi è un partito nuovo che fa rispettare le regole, che non si accomoda a tavolino. Come diceva Giolitti, lasciami fare una citazione, per gli amici le regole si interpretano, per i nemici si applicano, per Renzi le regole si applicano, punto. Si potrà votare dalle 8 alle 20, tre i seggi cittadini aperti, uno a Portodascoli in via Damiano Chiesa, uno in centro in via Balilla e uno nella zona nord di via Manara. Potranno votare gli elettori che avranno compiuto 16 anni e andranno versati 2 euro.